Musica Per tutti ragazzi sono sempre io Ho pensato come sarebbero i film in 5 secondi Ebbene è quello che faremo oggi Andremo a vedere i film più famosi in 5 secondi Ok sarà un video abbastanza particolare Detto questo iniziamo con il primo che è il Titanic in 5 secondi Questa è perla, la perla del web Ma questa nave non può affondare Oh bellissimo Allora è con lui che ha fatto sto video Lo rivedo in loop cioè è bellissimo Ma questa nave non può affondare E' il finale più bello di sempre Inizia con questa nave non può affondare E poi affonda dopo 5 secondi Questo è molto meglio del film originale Devo dire Bellissimo Bellissimo E questo è niente raga Passiamo al prossimo Full metal jacket in 5 secondi Vediamo che ha perla Come ti chiami sacco di lardo Signore lei non l'ona il signore Ora in poi tu sarai pa Bene Palla di lardo 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 di lardo banno di lardo ha la conoscenza di questo film dalla rilardo non si chiamerà più fun meta jacket si chiamerà palla di lardo il riassunto più bello della storia mi piace magari tutti i film possono così almeno Capiremo qualcosa Prossimo Questo film Madonna E storia Stiamo parlando del signore degli anelli In 5 secondi Vediamo cos'è uscito Non esiste altra scena Bene L'anello deve essere distrutto Vediamo come viene distrutto La cosa che mi ha fatto ridere è la risata del tipo La risata finale è bellissima Fottutamente bello la risata del tipo Devo dire è molto meglio questo dell'originale Almeno questo mi ha fatto ridere Sono bellissimi sti video Passiamo al prossimo Siamo su non pensarci in 5 secondi Non l'ho mai visto questo film Quindi non so cosa mi potrei aspettare Vaffanculo 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 tu No vaffanculo tu e tu Anche tu Non è proprio un cazzo da fare Vaffanculo va Sei la mia chitarra Un bellissimo film Mamma mia Detta in una parola Vaffanculo Vaffanculo Sono fiero di questa opera cinematografica Mi ha fatto anche piangere questo film È bellissimo Come riassumere un film in 5 secondi Onore Passiamo al prossimo film Sì siamo su un classico Marvel L'incredibile Hulk Come sarà in 5 secondi Vediamo Ok Ah vabbè Bellissimo film Hulk che ammazza un tipo Bene Il riassunto più bello della storia Per il tipo non è stato bello Prossimo Oddio Io qui ho seriamente paura di cosa potrebbe uscire sotto Perché ho trovato il re leone In 10 secondi Vediamo come riassunto questo film Sì siamo amici vero Certo E staremo sempre insieme Certo Sempre insieme Ma dai 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 Come rimanere male in 10 secondi Cioè inizia bello con la storia del figlio e il padre Staremo sempre insieme Poi alla fine il padre muore È la vita Cioè da premio Oscar sono questi video E questi sono gli unici film in 5 secondi Che sono riuscito a trovare Almeno di decenti E arriviamo all'ultimo film di oggi In 5 secondi Stiamo parlando di Iron Man Vediamo cosa è uscito Bene Si prevede un bellissimo film Riassunto di questo film Iron Man cade Ogni 2x3 Wow Bellissimo questo film Non c'è un riassunto migliore che questo Profonda stima Iron Man che cade ogni 2x3 È il riassunto più bello questo Come riassumere un film in 5 secondi Semplice Quello che mi ha fatto più ridere È stato il non pensarci È il signor degli anelli con la risata finale Quelli sono stati gli unici più belli Anche il Titanic però Sono perle Queste sono perle del web Ok Io direi di chiudere qua Questo video Spero che vi sia piaciuto Se si lascia il like Iscrivetevi al canale Fatelo Mi raccomando Mettete il piacevole a Facebook Trovate i link D'edizione con altri social E niente Ci si vede alla prossima